L'ambiente CrossFit si svolge in una palestra chiamata Box. Le lezioni durano circa un'ora e sono sempre attentamente eseguite e svolte da un coach CrossFit specializzato. Ci sono tutti i giorni, quindi sia al mattino, sia a pranzo, sia alla sera e si dividono in un riscaldamento di base, poi l'esecuzione e la tecnica degli esercizi e alla fine quello che noi chiamiamo METCON, ovvero il workout del giorno dove mettiamo più esercizi appena visti con la tecnica in esecuzione lavorando anche sull'intensità dell'esercizio. Ciao a tutti, noi siamo operativi come vedete, quindi vi aspettiamo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21, non siamo aperti, siamo qui, quindi vi aspettiamo per farvi provare questo bellissimo sport.